Ehi, dannato! Signore! Tu, dannato, dimmi chi sei! Sono Armin Arlert, del distretto di Shiganshina! Ma è un nome da scemo! Sono stati i tuoi genitori a sceglierlo? È stato il nonno a sceglierlo per me! E ora dimmi, per quale motivo sei venuto qui? Per dare il mio contributo alla nostra vittoria! Davvero commovente! Ma tu diventerai cibo per giganti! Terza fila, dietro front! Tu, dannato! Tu, dannato! Chi sei? Signore, io sono Thomas Wagner, del distretto di Troc! Non ho sentito bene! Ecco che ricomincia! Anche tu all'inizio sei stato sottoposto allo stesso trattamento? Sì, che nostalgia! Sara, anche! Ma tu vali meno di un animale in cattività, dannata! Sì, signore! Io valgo meno di un animale! Ma che senso ha tutto questo? Ah, è presto detto! Portandoli alla negazione di tutto ciò che sono stati finora, Kit avrà la possibilità di farli ripartire da zero. Facendone così dei veri soldati. Samuel Jackson, del distretto di Snape! Porta fila, dietro front! Ci sono dei ragazzi a cui non si è rivolto per niente. Sono i ragazzi che due anni fa hanno visto di persona l'inferno. Si distinguono per lo sguardo. Vi noterai qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri. Coraggio, andiamo! E tu, dannato, chi sei? Sono John Kirstein, del distretto di Trost. E perché sei venuto qui, dannato? L'ho fatto per poter vivere nei territori interni, signore. Ho capito! E così tu vorresti vivere nei territori interni? Sì! Chi ti ha detto di metterti a cuccia? O pensi davvero che chi si arrende così facilmente possa entrare nel corpo di gendarmeria? Tu che sei dannato e perché sei venuto qui? Sono Marco Bot della città di Ginae e sono venuto qui per entrare nel corpo di gendarmeria e morire per il nostro sovrano. Ho capito! Questo ti fa veramente onore. Complimenti! Ma c'è un problema. Al nostro sovrano non importa un accidente se muori per lui. Avanti il prossimo! Tu che sei dannato! Connie Springer, del villaggio di Ragaco, nel distretto di Walrose! Hai sbagliato di nuovo saluto, Connie Springer. Mi sembrava di averti spiegato più che a sufficienza che questo saluto indica l'impegno a offrire il vostro cuore per la salvezza del genere umano. Ora dimmi, tu hai forse il cuore a destra dannato? Ehi, dannata! Che cosa stai facendo? E con te che sto parlando, dannata! Dimmi immediatamente chi sei! Sono Sasha Blouse, del villaggio di Dauper, nel distretto di Walrose! Sasha Blouse, eh? E sentiamo un po', che cos'hai nella mano destra? Una patata cotta al vapore! L'ho presa in cucina quasi senza accorgermene, signore! Ma allora tu l'hai rubata? E perché l'hai tirata fuori proprio adesso? In realtà non volevo che si raffreddasse, signore! Così ho pensato fosse meglio mangiarla subito! Certo, ma io non capisco. Perché rischiare tanto per una patata? Signore, la domanda che mi sta facendo adesso è perché io mangio le patate? Metà a lei Metà a me? Guardate, la ragazza della patata sta ancora correndo Sì, ormai sono quasi cinque ore di fila Quando Kit le ha detto di correre fino a dopo il tramonto Sembrava quasi che non le importasse Ma si è messa a piangere quando ha saputo che avrebbe saltato la cena Il villaggio di Dauper è quello abitato da un pugno di cacciatori nei recessi delle montagne, giusto? Guardate! Sono quelli che si ritirano Ora andranno a dissodare i terreni È assurdo! Ma siamo ancora al primo giorno! Non c'è altra scelta Se non ce la fai non ti resta che andartene Ma come possono preferire andare a raccogliere le pietre? A proposito, a te oggi non è stato chiesto da dove provieni Come lui vengo dal distretto di Shiganshine Ma allora, quel giorno... Sì, allora c'eri anche tu quel giorno Sta attento! E l'hai visto? Il gigante colossale? L'ho visto